Vivere dopo il covid, a partire dal recupero della capacità respiratoria, Nicola ha visto la morte da vicino, adesso fa esercizi in palestra. Io avevo un'ossigenazione di 70 che è da morte, perché se avessi avuto altre patologie, altre situazioni, io non ero qui. Siamo nell'unità di riabilitazione pneumologica del presidio Postacuzzi e Sarcone di Terlizzi, centro di riferimento per il trattamento delle patologie respiratorie nella rete covid regionale. I pazienti sono trasferiti qui, superata la fase acuta della malattia, guarire si può di con i medici. Grazie proprio alla riabilitazione pneumologica, al percorso che è stato ben definito e delineato, il paziente poi continua ad essere eseguito, continua anche il suo ciclo riabilitativo e quindi effettivamente c'è da lavorare molto per quelli che sono poi la performance, il superamento dell'esercizio fisico e della disabilità che ha conseguito, però è possibile. Il presidio di Terlizzi è stato sottoposto ad un processo di riconversione che ha riguardato le unità operative di lungodegenza e riabilitazione pneumologica, ridisegnati i percorsi di ingresso e uscita, prontate aree e filtro, ricavati ambienti per la vestizione e la svestizione del personale. Al momento 40 i posti letto attivati. Si riesce a superare la paura del Covid chiaramente con uno sforzo anche da parte di tutti gli operatori sanitari coinvolti nell'assistenza al Covid.